Ok ragazzi, adesso ci dobbiamo metterle organizzare e ripensare dobbiamo fare benissimo dobbiamo fare tutto per parlare con noi sta arrivando come si vieni cominciamo a tenere il tempo dai, alziamo il tempo tu 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 a fantastico a a a a in Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti